Sono stati impegnati per diverse ore la polizia locale di Cartoceto, i carabinieri di Colli al Metauro e gli addetti alla pulizia delle strade nel tratto di via Flaminia all'altezza del semaforo dell'incrocio con via del Casello fino a Ponte Murello per rimuovere sul manto stradale della fuoriuscita di olio proveniente, secondo una prima analisi, da un mezzo pesante. Il fatto è accaduto nell'orario che va dalle 13 alle ore 15. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi che oltre aver visto la situazione ha lanciato un appello per rintracciare il responsabile. C'è stato questo sversamento di olio, ma è soltanto un'ipotesi da un trattore agricolo o forse anche da un mezzo pesante, in alcune vie cittadine di Lucrezia, via Casello, via De Amicis e via Foscolo per l'esattezza, ma soprattutto che ha interessato il tratto di via Flaminia lato Fano. Mi sento in dovere di fare un appello agli residenti, agli abitanti di queste zone affinché se avessero visto un mezzo pesante, piuttosto che come ho detto prima un trattore agricolo in difficoltà, magari sarebbero sicuramente utili come informazioni a ricostruire l'accaduto. La Polizia Municipale e i Carabinieri sono già al lavoro per cercare di ricostruire l'accaduto e quindi di risalire al responsabile. Grazie.